Autoriparatori e carrozzerie è un convegno importante che mette a confronto appunto questi due protagonisti del settore di gestione del sinistro. L'appuntamento è sabato mattina nel salone di Tere Liguria Sud, ma di cosa tratterà questo convegno? Abbiamo pensato a questo convegno per mettere a confronto appunto gli autoriparatori con le assicurazioni. Diciamo che ultimamente i rapporti fra i due sono diventati abbastanza aspri e quindi stiamo cercando di chiarire questa situazione. Per questo abbiamo invitato praticamente tutti gli attori della filiera dell'autoriparazione appunto dai consumatori, ci sono avvocati, ci sono i rappresentanti dei periti, ci sono i rappresentanti delle assicurazioni, dell'agne, è importantissimo. E quindi con questa discussione cercheremo di rimettere a posto, se riusciremo a farlo, un po' le cose, perché sono abbastanza complicate, diciamo. Il nostro punto di riferimento è quello di naturalmente tutelare il nostro lavoro, che è importantissimo, ma automaticamente noi tuteleremo anche i consumatori, perché noi siamo rimasti praticamente l'ultimo baluardo che loro hanno per un lavoro eseguito in sicurezza e senza interventi esterni. Un nuovo presidente di CNA, appunto, servizio alla comunità, qual è l'augurio per questa nuova carica? Ovviamente entriamo in questa nuova carica, nuova avventura, con un evento molto particolare che seguiremo sicuramente assieme agli altri autoriparatori, oltre che i carrozzieri, con gli organi dei mecatronici che fanno parte, elettrauto e meccanici. Una realtà un po' nuova come nome, ma che raggruppa forze che lavorano sul territorio da tantissimi anni e abbiamo piacere di dare una mano sicuramente. La gestione del sinistro quindi mette, logicamente, a confronto l'assicurazione e l'autoriparatore. Quanto è importante questo equo confronto anche per la sicurezza stradale? È importantissimo perché ci sono delle interferenze da parte delle compagnie assicurative. La loro politica oggi è quella di sottomettere le carrozzerie entrando e facendole entrare come fiduciarie. Il fiduciariato non è valutato su un discorso tecnico. L'unico punto di riferimento per le compagnie è ormai diventato il prezzo del costo orario, che va sempre a ribasso. Sappiamo bene che abbassando i costi orari non si può lavorare in maniera corretta e fare la famosa riparazione a regolo d'arte, che è importantissima. A noi sulle auto ci viaggiano i nostri figli, i nostri nipoti, quindi è importantissimo fare questo. Noi vogliamo soltanto che nelle nostre carrozzerie non ci siano interferenze esterne.